Noi è un momento di grandissima tristezza, Davide era un amico, un fratello, un grande leader della nostra comunità, un grande leader del nostro paese, che ha onorato l'Italia in Europa e nel mondo, ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali che ha fatto, come durante la pandemia, la scelta di riuscire a tenere il Parlamento europeo aperto, di farlo lavorare nonostante la pandemia e questa scelta ha cambiato la storia europea, ha consentito alle scelte dell'Europa di essere più solidali, è un lascito, un'eredità enorme, lascia un vuoto incolmabile e sarà durissimo. Allora, abbiamo sentito le parole di Enrico Letta.